Eccoci qua amici ISOP, siamo nella fase della bolla, praticamente 61 left, 60 premio al livello numero 20, 14 minuti alla fine di questo livello, 10.000, 20.000, bottonante 20.000. Eccoci qua in attesa dello showdown, in attesa che si concludono le mani dagli altri tavoli, stiamo andando ovviamente in hand by hand. I giocatori coinvolti sono Riggio, Roberto al posto 8 e Russo, Germano al posto 10, eccoli qua in attesa con le carte davanti di fare lo showdown. Siamo qui in attesa del floorman che possa dare l'ok per lo showdown, eccolo qua. Allora, asso 3 a cuori per Riggio e 8 e Jack per Russo, Germano che era di grande buio. Flop 4-4-2 Tarna 8 di cuori, si apre il colore, però fanno passare avanti Russo con questo 8 e scoppia la bolla. Vince Russo con Otto e Jack eliminando Riggio e Roberto, i giocatori sono tutti a premio e quindi a questo punto penso che non ci sia altro da aggiungere, ci sentiremo più avanti sicuramente e poi mi raccomando, connettetevi per il Final Table dei KO. Ciao a tutti!